Buongiorno Che cavonino? Siete voi? Ci potete dire qualcosa su questa faida, su questo omicidio buzzese? Che è successo? Si dice che sia partito da qui l'ordine... Eh sì, un signore che deve entrare. Un breve commento su questa vicenda, signor Nino, di buzzese. Perché? Si dice che l'ordine sia partito da Arizziconi, è vero? Si mentisce? Perché hanno tutti paura di voi? È l'occasione per smentire, no? Abbiamo fatto mille chilometri per conoscerla. Hanno parlato in tanti, pesce, piromalli, perché non dovete parlare voi? Perché c'è questo terrore per la famiglia che a lei è stato assolto poi, mi sembra, nell'ultimo processo? Giusto? Ho sbaglio, c'era ieri sul quotidiano. Ma può smentire? Eh? Può smentire? Lasci me in pratica. Non conosco nessuno io. Come non conosce? Siete Crea, siete Nino. Siete una persona per me? Ditelo. Tutti abbiamo fatto la regge, abbiamo fatto la gioia. In due parole. Non ci può dire almeno due parole, così andiamo via. Andiamo via, promesso. Ebruzzese cosa pensa dell'omicidio? Niente? Sentite, io sono qua. L'autista, è l'autista. Allora? Allora? Grazie a tutti.